Che tristezza! La festa del lavoro degradata a dramma collettivo che spesso sfocia nella disperazione di migliaia di famiglie. Il lavoro non c'è più e forse la crisi durerà ancora tanti anni. I dati drammatici fotografati dall'Istat e da Eurostat certificano una situazione economica e sociale davvero insopportabile. Nella nostra regione sono stati cancellati 8.000 posti di lavoro nel solo anno 2013. Il 60% dei giovani sono disoccupati. La povertà travolge 22.000 famiglie che corrispondono a 70.000 molisani. Numeri agghiaccianti che mettono a rischio l'autonomia regionale e perfino la tranquillità sociale di un popolo storicamente mansueto. Numeri dietro i quali si nasconde il dramma quotidiano di persone in carne ed ossa alle quali viene negata perfino la dignità di un'esistenza decorosa. Una condizione di vita surreale che non ha precedenti nella storia degli ultimi 80 anni. Una situazione che non dà certezze neanche a chi il lavoro ce l'ha e rischia di perderlo da un giorno all'altro dopo aver subito la drastica riduzione dei diritti conquistati con decenni di lotte sindacali. Già, i sindacati, dove sono i sindacati? Non parlano più, non lottano più, non fanno proposte per uscire dalla crisi. Certe volte sono latitanti anche nella difesa dei più elementari diritti. Da diversi anni ormai le piazze restano desolatamente vuote, perfino nella giornata della celebrazione del primo maggio. Che tristezza! E le istituzioni? Dove sono? La regione? Dov'è? Dopo un anno di governo Frattura ha di fatto abbandonato al loro destino tutte le aziende partecipate dalla regione creando migliaia di disoccupati e ha smantellato la protezione civile. Le piccole imprese muoiono in silenzio e senza neanche il funerale. Perfino l'Università del Molise è a rischio perché il governatore ha deciso di chiudere i rubinetti. La desolante protesta solitaria dell'allevatore della GAM, Alfredo Faiella, rappresenta l'emblema di una regione che sta morendo. O forse è già morta nel silenzio collettivo degli irresponsabili. Caro Presidente Frattura, Nella lettera aperta, indirizzata proprio a Faiella, in occasione del primo maggio, lei confessa la sua sofferenza per la drammatica situazione in cui versa il Molise e rivolge il suo pensiero ai lavoratori e alle famiglie in difficoltà. A Costoro, lei chiede di viaggiare insieme nella direzione che si chiama Futuro. Belle parole, Presidente. Ma a giudicare i fatti del suo primo anno di mandato c'è poco da sperare nel futuro. Le belle parole restano tali. Appunto, parole. Buon primo maggio.